Dopo aver creato questa superficie loft attraverso le due sezioni che sono rappresentate dalle due elissi e le guide selezionate che sono le spline che abbiamo tracciato all'inizio ora noi dobbiamo fare due operazioni la prima operazione è creare la foratura del corpo della teiera relativa al passaggio del becco infatti se congeliamo il becco vediamo come non c'è ancora il foro poi creeremo appunto la superficie vera e propria e quindi il becco in modellazione solida attraverso un taglio quindi passiamo alla prima fase dobbiamo creare un solido quindi a questo punto prendiamo questa superficie che è nel mod becco e la congeliamo possiamo anche creare adesso un altro layer becco solido congelato, congelato, quindi corrente e creiamo un solido che servirà come operazione buliana di sottrazione servirà da sottrazione da elemento che sottrae al corpo della teiera e quindi mi genererà un foro solido, solido, loft, rifacciamo praticamente il loft a partire da elisse, invio, g per guide 1 e 2 invio e abbiamo creato un solido come si può vedere il becco del solido è tappato quindi è pieno è un solido pieno ora facciamo un sottrai sottrai dal corpo della teiera invio, sottrai il becco invio ecco abbiamo fatto l'operazione di sottrazione quindi abbiamo sottratto abbiamo creato il foro nel corpo della teiera ora congeliamo il corpo che non ci serve a questo punto abbiamo qua anche un profilo che è una regione a questo punto possiamo anche congelare la regione quindi isola, nascondi e generare con il profilo interno una superficie che poi sarà la superficie di taglio della superficie del becco quindi scongeliamo il modello del becco che ripeto è una superficie loft che è quella iniziale e creiamo una superficie che servirà di taglio di questa superficie in maniera che sia perfettamente coincidente col corpo della teiera quindi superficie a questo punto creiamo la superficie a rivoluzione prendiamo, selezioniamo la spline interna perché sarà la spline che genererà la superficie di taglio invio il punto iniziale ovviamente è sempre il solito F3 per attivare l'OSNAP quindi sarà il solito asse e a questo punto visto che a me serve solamente una parte che corrisponde a circa 60 gradi faccio IN perché non voglio 360 gradi IN meno 30 quindi partirà da meno 30 e andrà a più 60 oppure così l'importante è che passi il becco quindi la superficie di becco a questo punto ora taglio superficie taglia la superficie da tagliare sarà il becco seleziono il becco invio la regione di taglio sarà quella che ho appena creato quindi questa invio e l'area da tagliare sarà ovviamente questa parte destra del becco invio notare che non ho attivato l'associatività quindi se io cancello adesso questa superficie che non mi serve cancello rimane la superficie del becco tagliata altrimenti mantenendo i profili non viene completamente tagliata e può essere rigenerata bene a questo punto posso allora congelare tutti i profili anche il profilo del becco che non mi serve lo stesso il profilo del corpo e a questo punto genero un solido quindi solido i spessisci facciamo uno spessore di 1.5 mm e come si può vedere però lo spessore è andato all'esterno quindi lo annullo perché io voglio uno spessore interno altrimenti mi esce anche dal foro quindi ripeto i spessisci questo invio meno 1.5 e andrà come si può vedere all'interno del becco ora ho completato tutta la mia teiera scongelo scongelo il corpo e vediamo come effettivamente il becco entri perfettamente nel corpo della teiera scongelo anche il coperchio che non mi interessa ma il manico sì mi posiziono su mod modello corpo come layer corrente e faccio un'operazione di unirci unisci questo che è un solido ho ancora la superficie loft che magari cancellerò o comunque la posso congelare questo che è comunque un solido e questo che è sia un solido 3D il solido questo è relativo al corpo quindi è questo invio dovrebbe diventare un unico corpo un unico solido e a questo punto posso fare anche alcune operazioni del tipo di rifinitura ad esempio nel becco creo un raccordo intanto raccordo qui quindi E sequenza R raggio e faccio un raggio di 2 seleziono e mi accorgo subito se la selezione è corretta infatti è corretta invio e invio questo è un primo raccordo facciamo un raccordo anche nei bordi del becco in maniera che uno non possa farsi male quindi R raggio ovviamente se è 1.5 il raccordo sarà al massimo mezzo quindi punto 6 raccordo interno invio ecco ho finito quindi potrei anche fare il raccordo a questo punto anche del manico scongelo il coperchio ritorno nella posizione assonometrica e questa è la mia teiera completata ricordiamoci che vista la foto la mia teiera è inclinata quindi se io vedo dall'alto infatti è inclinata la devo portare sul piano in verticale è inclinata la mia teiera Grazie a tutti